L'adozione di misure di contenimento dell'inflezione coronavirus non fa abbassare il tasso di contagiosità portando la campania terza in classifica tra le regioni con l'indice RT con un valore pari a 1,44 dopo il Veneto e la Sicilia. Dati che impongono una cautela che ancora una volta hanno portato il governatore della campania Vincenzo De Luca ad emanare una nuova ordinanza che riguarda l'obbligo per chi va al ristorante di fornire la carta di identità dopo che è stato verificato che in alcuni posti sono state fornite generalità false che hanno creato problemi nel ricostruire la catena dei contatti nel caso di positività. Una decisione che ha spaccato l'opinione pubblica su una misura che se da un lato aggiunge un ulteriore passaggio burocratico per i ristoratori dall'altro trova anche osticità da parte degli stessi clienti che si sentono non tutelati nella privacy. Certo questo è un ulteriore compito che grava sulle nostre spalle però siamo disponibili sempre a usare tutti gli strumenti per evitare contagi. C'è stato un picco, abbiamo superato la Lombardia come contagi quindi non è una cosa positiva, sono completamente d'accordo. Però questo per noi è un ulteriore onere, ci rimbocchiamo le maniche e accettiamo. Anche questo però non è semplice, si sono viste scene di aggregazione in vari luoghi che non sono i ristoranti soltanto oppure i bar. Insomma ci sono tanti altri luoghi di aggregazione dove si sono visti centinaia e centinaia di persone, anche attività commerciali. Quindi noi accettiamo anche questo perché è un altro obbligo ma certo fatto per evitare, scusatemi, il contagio. Quindi andiamo avanti. L'importante è che non si torni alla fase 1. Dallo stesso tempo si chiede però, così come ai ristoratori vengono chieste, delle attenzioni particolari, così anche agli stessi commensali, che vengano usate le stesse misure un po' ovunque. Sicuramente. Prestiamo attenzione perché se vengono prese delle decisioni è perché ci sono delle problematiche precedenti. Come è stato per l'asporto che ci è stato bloccato alle 22. Per quale motivo è stato bloccato l'asporto? Ci sono stati messi dei limiti orari fino a qualche tempo fa. Perché qualcuno ovviamente ha trasgredito. Quindi cerchiamo di non trasgredire, così torniamo alla normalità al più presto possibile. Evitiamo che l'autunno porti tanti altri contagi. Prestiamo attenzione perché un'ulteriore chiusura potrebbe essere letale per molte attività. Il rischio in questo momento è proprio questo. Se dovessero continuare ad aumentare i contagi ci potrebbero essere altri provvedimenti fino ad arrivare anche ad un ulteriore lockdown. Questo io non lo posso dire perché ovviamente c'è un'unità di Crifi che valuta queste cose. Però si prospetta questo fantasma che per noi sarebbe veramente, come dicevo, per molti sarebbe letale. Evitiamo questo.